Ultimo video di questa notte, dopo mi andrò finalmente a fare la doccia con il mio nuovo scrub di fior di salina dell'erbolario, così finisco anche il video completandolo con la review di quello che poi era il primo video che avevo registrato. Allora lo faccio sul prodotto, perché era un prodotto che ho comprato e pagato, della Kiehl's, questo detergente dual action esfoliante da uomo, che si può usare sia come maschera che come detergente quotidiano. Allora, l'ho comprato tre domeniche fa, vi posso già fare la recensione perché l'ho usato sempre, a parte il primo fine settimana che ho preso l'aereo, quindi nel bagaglio a mano, questo 150 ml non lo potevo portare, non mi andava di andarlo a riversare, quindi non me lo sono portato, quindi per due giorni non l'ho utilizzato, ma anche la scorsa settimana che sono stato fuori con il treno me lo sono portato. Quindi l'ho usato sempre, allora io mi lavo il viso due volte al giorno, la mattina e la sera, quindi questo l'ho usato mattina e sera, non l'ho usato giusto se durante il giorno magari perché ripassavo a casa, oppure la mattina lavoravo a casa e poi uscivo per giri di lavoro, magari sentivo il bisogno di rinfrescarmi il viso, ho usato un'altra cosa perché questo comunque essendo esfoliante, usarlo addirittura tre volte mi sembrava troppo, però l'ho usato sempre e ve lo posso già recensire. Ma prima di recensire questo vi faccio una breve recensione dei campioncini che mi hanno dato, la mi hanno dato due creme da 3 ml che sono durate comunque parecchio, perché credo di averle iniziate di domenica e finite di giovedì, durate parecchio con un po' di dolore perché non mi sono piaciute un granché. Allora a parte gli inci, sui quali mi pronuncio fino a un certo punto perché io non sono né un medico né un tecnico né un chimico né un tecnico di laboratorio né un esperto, non ci capisco niente, sono pure brutto, però insomma queste creme hanno tipo alcuni ingredienti tra cui il di medicone che è in terza o quarta posizione, dove è in quarta posizione perché prima c'è l'alcol, quindi ora non so quanto costino ma gli inci non sono particolarmente entusiasmanti, però vedendo il prezzo del detergente penso che costino abbastanza. Allora, poi ripeto, io non è che ci capisco molto, nelle creme magari non demonizzo a prescindere gli ingredienti, soprattutto la paraffina liquida, perché ok, vabbè, ha un'origine naturale ma deriva dal petrolio, però la paraffina che viene utilizzata per i cosmetici è un tipo di paraffina molto sicura, anni fa quando mi interessai, ma tanti anni fa iniziò a interessarmi dell'omopatia, scoprì, e spero di non dire una cazzata perché mi ricordo vagamente, scoprì che insomma la farmacopea tedesca mette la paraffina liquida nei prodotti e la consiglia per alcuni problemi topici particolari, quindi demonizzare per carità un ingrediente a prescindere non va bene, però secondo me c'è una bella differenza tra la paraffina liquida e il di medicone, ma ripeto, giusto per sentito dire, non perché abbia io delle competenze. Quindi al di là delle linci che quindi quando me le mettevo mi sentivo in colpa, allora questa Oil Eliminator è quella 24 ore idratante, la utilizzavo di giorno, sì insomma molto leggera ma non mi ha fatto un grande effetto matte, però insomma era abbastanza leggera, molto buona la profumazione. Questa qui invece che quella idratante anti rughe l'ho utilizzata di notte, molto più nutriente e io già di notte utilizzo sempre delle creme molto nutrienti, quindi non è che la mattina avevo dei problemi particolari, però si sente comunque che non è una... cioè rispetto alla mia crema, la Vera Q10, che insomma mi fa sentire la pelle sì nutrita con i burri, con gli oli, però che respira, questa si sente insomma che ci sono degli ingredienti occlusivi. Poi il tonico. Mi era stato regalato questo campioncino, anche grande perché da 40 ml, quindi è quasi un prodotto, di questo Ultrafascial, vabbè di questo Oil Free Toner, per pelli da normali a grasse e oily. Allora, anche qui sull'Inci non è che, perché ripeto, non voglio dire delle castronerie, anche se mi sembra di ricordare che il propilene glicolico non sia un granché, però questa ha anche l'acido iaruronico per esempio. Scusate, sono stato interrotto. Allora, ripeto, non mi pronuncio tanto sull'Inci anche se il propilene glicolico non mi sembra sia un buon ingrediente. Non l'ho praticamente mai utilizzato. L'ho utilizzato due volte. Ha un odore molto neutro, un profumo molto neutro. L'ho utilizzato solo due volte perché, onestamente, quando l'ho messo addosso, cioè, io adesso sto utilizzando l'acqua di rose che ho preso da Eco Verde, quella di Téa Natura, credo, con cui mi sto trovando benissimo. Quindi, dopo due volte che l'ho utilizzato, ho detto, ma ho l'acqua di rose e utilizzo quella. Penso che questo lo passerò, non credo. Non ho intenzione tanto di utilizzarlo. Però, ripeto, questo era un prodotto regalato. Veniamo adesso, invece, alla recensione del prodotto che io ho comprato. Vi ricordo, intanto, il prezzo. 32 euro, se non sbaglio. 31,50 per 150 ml. Quindi, per i miei gusti e per le mie tasche, tanto per un detergente viso. Anche se è un detergente viso che rende tantissimo. Perché il commesso mi aveva consigliato di utilizzarne la quantità di una, cioè, sul palmo della mano, di mettere la quantità di una monetina da 20 centesimi. E aveva ragione. Cioè, io la prima volta ne ho utilizzato tanto e ho detto no. Quindi, come detergente viso, basta proprio una quantità minima. E rende tantissimo. Quindi dura parecchio. Allora, utilizzato come detergente non è male, però, devo dire che mi aspettavo di più. Soprattutto per il prezzo e per quello che dice di contenere. Perché non mi sentivo particolarmente pulito. Cioè, nel senso, non aveva questo effetto wow. Cioè, non dico sgrassante, però sentirsi purificati, rinfrescati. Non mi sentivo fresco. Mi è piaciuto di più, per esempio, mi piace di più quello della Bottega Verda al pomplimo rosa. Fa molto di più da questo punto di vista. Poi, oltretutto, questo prodotto, già la prima sera che l'ho utilizzato, mi sono reso conto di aver fatto un errore. Perché questo prodotto ha praticamente dentro il caulino, che sarebbe l'argilla. E, essendo molto liquido, ve lo faccio vedere com'è. Allora, è così. È proprio liquido, vedete che scende. Allora, questo qui, quando tu lo inizi a utilizzare, se non stai attento. Infatti, io lo utilizzo molto sotto la doccia. Un pochino come capita quando fate l'argilla, quella dall'argilla verde ventilata, che la mischiate con l'acqua. E se poco poco l'acqua schizza, vi va l'argilla per tutto il lavandino e fa un casino. Perché è proprio, sembra fatta apposta. Comunque, adesso me lo metto qua. È così. Sembra proprio come una maschera, perché può essere utilizzata come maschera. Adesso vi dirò anche. Quindi, già mi ero stato conto di aver fatto un errore. Perché io avevo già provato un prodotto simile, che è quello della Garnier. Per il detergente, che lo fanno sia bianco che nero. Io mi ero trovato bene con quello bianco, che anche quello lo puoi usare come detergente, come scrub, come maschera. E, trovatomi bene con quello bianco, ho preso anche quello nero, che dico sarà più figo. Invece quello nero mi dava fastidio il fatto che fosse nero. Perché le cose bianche, anche se magari poi sporcano, vanno in giro, si vedono di meno. Questo nero non potete evitare di non vederlo, soprattutto sull'avandino. Quindi, già questa cosa non mi piace, lì ho fatto un errore io. Ma anche con dei prodotti, per esempio, Eco Bio, tipo un detergente della Sante al Rassol, che vendono su Eco Verde, ho avuto lo stesso problema. Cioè, questo tipo di prodotto non mi piace. Però, l'importante è che funzioni. Allora, niente di che. Ripeto, poi tutto va rapportato anche al prezzo. Cioè, se quello della Garnier costa 5 euro, e comunque sia, faceva più o meno lo stesso lavoro. Non è che anche quello mi sentissi la sensazione wow, però perlomeno costava meno. L'utilizzo come maschera. Allora, l'utilizzo come maschera va utilizzato così. Bisogna lavarsi sempre il viso, poi se ne mette uno strato molto più consistente. Quindi, diciamo, più o meno come l'ho messo qui, su tutto il viso. E si tiene, qua dice, 10 minuti. Ah, perché poi ci vogliono gli occhiali, eh, per leggere. Perché è scritto in 400 lingue. 5 minuti. Ma io l'ho tenuto anche una volta 20 minuti, così, insomma. Allora, innanzitutto, come maschera questo non si secca. Che non è che sia per forza una cosa negativa. Perché ho un'altra maschera della Cattier. Che comunque dentro ha degli oli, quindi le maschere oleose, non si seccano. Le uniche maschere che si seccano sono quelle che facciamo a casa con l'argilla verde e l'acqua. Quelle si seccano poi e tirano. Però, questa non solo non si seccava, ma per asciugarsi ci mette tanto. E è buona come maschera, cioè fa il suo dovere. Quindi è carino il fatto che lo posso usare sia come detergente che come maschera. Però, ripeto, ci sono tanti altri prodotti che fanno questa stessa cosa. Nonché un detergente di lavera, che è bianco oltre tutto. Quindi non mi sporca il lavandino. Però, insomma, non è che è una maschera proprio fantastica. Cioè, che fatta quella maschera poi tutta la sera avevo il viso luminoso. No, diciamo che è un prodotto molto, non è un cattivo prodotto per concludere, ma è un prodotto abbastanza medio. E per il prezzo che ha lo boccio. Cioè, nel senso, anche se dentro dice di avere questa argilla marocchina che sarebbe il rasol, anche qui il gasol, come volete dire. C'ha degli ingredienti pregiati, però anche questi sono un pochino annacquati in altri ingredienti meno pregiati. Quindi non... L'odore è buono, eh. L'odore è piacevole. Cioè, l'odore comunque dà la sensazione di un prodotto naturale. Però non è un prodotto naturale. E ripeto, non lo ricomprerò più che altro per il prezzo che ha avuto. Cioè, mi sarei aspettato molto di più. Quindi questa per me è una recensione negativa. Cioè, per carità, io poi... Uno può anche avergli i soldi per comprare questo. Però se trovi dei prodotti migliori allo stesso prezzo, addirittura a meno, non mi è piaciuto. Però lo finirò, perché comunque a detergere deterge. Niente, questa era la mia recensione sul prodotto Kiehl's. E credo che sarà difficile che riproverò qualcosa di Kiehl's. E per stanotte è tutto. Adesso mi vado a fare la doccia, così finisco la recensione dell'erbolario. Ciao!